il peppo tutto il mio peppo 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 cammina e qualsiasi voglio non lo saprei mai il topo termina peppo 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 ci vogliono troppi peppo e non lo so se tu puoi aspettare che manca poco se stasera assolutando per la ranca come sta perdendo tu d secondo me sta perdendo la virginità qui ci fa credere di essere un playboy però invece non si è mai trombato nessuno è vero Matthew hai visto ho colpito nel profondo perché c'è un cazzo di maltempo in giro sai quali proprio quegli alluvioni estive che trovi le capre per le strade che vengono trascinate via dei piccoli torrenti che si formano comunque per me l'importante non è come gioco alla fine non è antipatico si che è importante non ti preoccupare tira fuori tutto il razzismo che intendo ma non è vero per me raggiati sulla mia spalla passerà tutto quando non è vero però c'hai ragione Oshka c'hai ragione fai razzismo porta siiii B10 sono fiddato raga ho lì tipo cacciatore di mostri questa unità riceverà meno oro da minion in corsia sono il gol di carriere del team muoversi nell'elba alta aumenta la velocità di movimento di nodulo del 10 farfalla per 2 secondi del 30 farfalla si dirige verso un gambione nemico visibile entro 1400 unità aia perchè? ma io sto premendo E, iniziamo bene ma che state facendo? io non lo uso trovi aia quello l'era per youtube capito? salve ragazzi e ragazze e ragazzi che credono di essere ragazze e ragazze che credono di essere ragazze ma siamo tutte ragazze tranne Ornn? eee Camilla è musica e Gin è ovviamente una cominuncia ma scusa Peppo siccome abbiamo sempre parlato di come eeeh e poi capito tra l'altro non credo neanche che sia stata una buona idea col senno di poi non mi ha detto il tuo primo incontro con deathfall a... ahhh... nevron si avevo fatto filone a scuola non eri in ospedale? no quella è stata la seconda volta che l'ho vissi in ospedale che cazzo avevo fatto filone a scuola si e l'ho becco a nevron a vedere il fumetto esatto stavo in fumetteria l'abbiamo beccato io la sorella tu hai troppo beccato 1 e la festa per quello che mi piace c'è un'altra caccia da fare io dico che questa la vinciamo basta che prendeva da fk 5 minuti anche da molto 5 minuti mi stanno comunque salve a tutti sugo fighe sudo oggi ho mandato una poesia che è talmente spinta a una ragazza che si è guadagnata talmente tanto che è molto disidratata porca troia era una poesia guardinga infatti qua l'evo scritto figli di puttana ma che puce mi chiedeva da ecco per una volta che stavo cancando è l'erba qua io non ho mano non posso fare neanche una skin una skin sì bravissima la prossima volta prendila però così sarei ancora più brava non moriamo se muore solo uno quello smile come devo già andare mettendo ormai la urtina la fa sì stavo scherzando eh silvia può picchiare peppo che scherza troppo che gli deve mangiare i gelati quello è quello che cucina silvia gelati apri un coperchio eh sono una cuoca mi sa che comunque ho portato sfighe prezzi di sconnesso veramente cinque minuti ragazzi infatti era per quello che non volevo scattare entrati ma che cazzo sta facendo qua da mente in questa lista ma in da verso di volta c'è cazzix a me lo battene battene nooo ben è camilla di ma hai bloccato l'herald eh sì mi sono araldato è la primissima volta che sbaglio a mettere l'herald ti giuro perché altro non te l'hanno bloccato perché l'hai fatto? mi hai messo l'herald in faccia e non te l'hanno bloccato è la prima volta in vita mia che mi capita ed è servito pure da jbite per nooo comunque sei fatto la torre ma come ho ucciso l'herald? l'herald ho ucciso l'herald ma come ho ucciso l'herald? what the fuck ma come ho ucciso l'herald? oh shit non ero proprio reso conto di che camille mi perde ma per l'altro c'è la Storm Razor ma non ci posso pensare che Peppa ha picciato quel povero Brande e l'ha mandato fk con la forza della volontà si ma non ci speri i desideri sia vera non volevo andare ma il problema di camilla è che praticamente si fa mezza mappa con una E perché mezza mappa qua io l'ho usato mezza ma non è vero? è vero è saltato ma qui ma ti rendi cosa? cosa? ti rendi conto di cosa direbbe San Paolo se ti sentisse parlare? ti ha ragione direbbe qualcosa tipo croci croci suore no non esistevano le suore ancora siccome sei riuscito a mandare fk a Brande puoi fare qualcosa anche per camille ragazzi mi raccomando se vinciamo tutti potete scrivere HitsBot si non vi scordate HitsBot questa è bomb wins alla fine è Orn che ci ha salvato il game sia come pick che come eh ma è Brad che sto vime ah ah quello è il mio oh oh ah no eh vedi il mio cadavere sta qua eh si ma l'ho notato ci ho fatto proprio caso no 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 dobbiamo prendere il mantine devi fare caso alle cose bot se lo facessi sarebbe un ammobiliare ma ma Orn è era quello che ha fatto tutto fino a mo e poi ma guarda che ha fatto tutto l'isina ma vaffanculo hai visto una partita diversa boh io ho una Roderfeld e FIDWIN eh 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 eh